Ciao a tutti e benvenuti sul nostro canale. Oggi entriamo insieme al Parco Lattura Viva di Bussolengo. Il parco è suddiviso in due aree ben distinte, entrambe incluse nel prezzo del biglietto, che come abbiamo detto l'altra volta, nello scorso video, era 27 euro a persona, più 6 euro il parcheggio. Il safari in auto dura circa 40 minuti, sono due chilometri, potete usare la vostra auto oppure neoleggiare una jeep. Ma su questa parte abbiamo già fatto un video e se non l'avete ancora visto, andate a vederlo. In questo video invece vi faremo vedere la fauna, che richiede almeno 4 ore. Sono 5 chilometri con diversi animali e diverse soste, dove fermarvi. Vi consigliamo comunque di prendervi tutta la giornata, così potete fare con calma. Mamma mia! Bravo, ma vuoi una foto? Ma vuoi una foto? Ma ci sono quelli di amare, ci sono quelli di cotterini! Ci sono tutti dormendo! Oh, spediatemi ragazzi, siamo venuti noi a visitarvi da lontano? Sì, dal mondo di prezzemolo. Ciao, ciao! La pagina si caglì. Oh! E stanno su una gamba tutta da lei. E perché stanno su una gamba tutta da lei? Perché fai capire bambini con maschio femmine. Sì. Asia, America, Europa. Che figata! Inizia l'avventura! Tu non sai quanti animali ci sono qua. Tantissimi. Andiamo. Siamo con il sentiero d'Africa. Allora qua c'è un piccolo parco, piccolo insomma, un bel parco. Quanti bimbi? Lo vedremo dopo quando andiamo. Ma non è questo il ritorno mi avevi detto? No, non è il ritorno, ma non è il ritorno. Ok, andiamo. Bellissimo il parco, dai. Questa è una casetta super moderna. Wow! Che accogliente! Sì! Certo! Che bello! Se vedete là non sono sassi ma sono ipopotami. Si l'ha avvicinato. Questo è troppo vicino. Com'è Seth? Fa caldo. Fa caldino. C'è anche una bellissima cascata! Ma questi animali stanno in un paradiso, eh? Sì, stanno meglio di noi. Stanno meglio di noi, dice Antonio. Ma sì. Che è per il posto? Erano questi qua che abbiamo visto prima. È di papottamo, anche se non l'abbiamo visto benissimo, perché è un po' girato. è questo. Ok. Passiamo per la cascata. Così ci rinfreschiamo. Magari. Qua dicono che è la più grande colonia di scimpanzai in Italia. i nostri parenti più stretti hanno in comune con noi il 98% dei geni. Beh, effettivamente assomiglia a qualcuno che conosco. Qua ragazzi ci sono i scimpanzai. Hanno delle gabi giganti. Tre perché c'è un altro là. Eccolo! Guarda, che c'è? Sta mangiando? C'è il cimpanzai, amore. Guarda. E noi. Sembra che l'ha fatto la foto sul culetto. Ah, sì, lui! No, no, amore. Ma sì, lo vabbiamo andando di una volta. Ma io. Cucceletto. 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 Stanno dormendo come sempre. Prima dormono ancora. Cucceletto. 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 più bellezza cercava la casa che utile e se vedi la viena vai signore Balbuto c'è la casa? voi lo vedete? non lo vedo signore Balbuto si trova a casa si è nascosto ma penso che lo aveva si è scappato ragazzi il barbuto era nascosto qua eccolo eccolo si è nascosto da tutti ci sono le scimmie ehi cosa fai? faccio le scimmiette anch'io sono queste ci vedono ancora meglio com'è? sono carina dice che si chiama citatunga eccola tartaruga gigante africana tartaruga gigante africana tartaruga gigante africana ci sono questi questo qua nero oceania con questo bellissimo canguro e il suo cucciolo isa l'hai chiamata set visto che ci sono i pappagalli hai visto il suo becco come è in punta proprio proprio in puntina è come se fosse un uncino il pappagallucino un uncino perché tu ti chiami Camilla? è il pappagalli è il pappagalli è il pappagalli è il pappagalli sono non è il pappagalli è il pappagio è il pappagio ho tutto Allora, dice Il maschio cova le uova e protegge i pulcini Non abbandona mai il nido E può perdere Fino a un terzo del suo peso Il maschio che cova i pulcini Ciao, bello Belcino E' vero, è bellissimo E' tutto bianco No, uno dorme E' uno sveglio Ah, è bello, è vero? E' troppo bello E' troppo bianco E' bello L'ho vista, ma è andata via adesso Ah, è là Ma c'è la fossa Oh mio Dio Hai visto che c'è la fossa là? Sì, è un gatto Ma non è un gatto Quello dico E' la fossa Entra un gatto Tigre E' anche una simia Perché si può pagare anche sull'albero Ma dai Con la sua cota Si fa anche tutto La fossa Oh mio Dio Questo sembra proprio un indro Così dici indro in italiano? Vasa maggiore Qua c'è scritto Che cosa? Indro Come si dice in italiano? Così, vasa maggiore? A indro A indro? Cos'è a indro? Allora questi simpatici panda rossi che vedete qua siamo nel continente della cina e dell'asia non della cina scusate e questi panda sono sull'albero che dormono adesso farò in modo di farveli vedere il meglio possibile stanno dormendo cucciolosi cuccioletti da qualche parte dovrebbe esserci questo questo della cina c'è scritto così dovrebbe essere qua da qualche parte forse è nascosto anche lui forse dorme abbiamo notato che tantissimi animali dormono qua sono stanchi io adoro l'atun guardate partecipa con il parco natura viva ad un progetto internazionale per la salvaguardia del panda rosso ma è così carino guardate qua fanno vedere la telecamera che dentro dentro la casetta che sta riposando guardate quanto è carino i cavalli che carini dici ma no cavallo c'è valschi allora wow andiamo a vederla è piena di gente ho visto amore cattini c'è un amicino che carino è venuto qua vicino c'è wow che alto che sei dai salta dai salto fiericissimo amore vieni qua salta Sì, guarda, sì. Ora dovete fare il proprio silenzio, che il Michino sta dormendo, hai visto? No, credo che dorme. Sì, è al capovaccaio, però lui mangia la carne e mangia le ossa, è come la iena, anche la iena mangia le ossa, anche lui mangia le ossa. Lui cosa fa? Fa una cosa simile, ossia quando le ossa sono troppo grandi, prende il volo, l'osso ce l'ha anche nelle zampe e lo lancia contro le rocce, questo è il contrario di lui che lancia le rocce, in modo che si spezzetti in tanti pezzi. Sì, sono spaventato per dirlo. Perché? È brutto che è? Ma non lo so, papi, no? È un voltoio, sono molto intelligente. Cerca sempre di ingannare a noi umani, e questo voltoio mangiano anche le ossa. E per spaccare le ossa grosse, vanno, volano con le ossa e le buttano su una pietra, così si spacca le ossa e riesce a mangiare tutto, completamente tutto. Ma si spaccano le ossa, potremmo spaccare le ossa. Possono spaccare, questi vetri sono molto, lo si senti. sono queste scimmite qua. Siamo in America adesso. Siamo in America. Siamo in America. Siamo in Europa. Sì? 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 Un piccolo! L'ietro sia l'estero. Sì? 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 Quora. Il nostro corso gratuito www.mesmerism.info 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 Qua dove sono? Questa è grande Anche qua ce ne sono hanno un pacco in mezzo ciao bella carina noi siamo la tigre con migli di sable è la mamma no? non è la mamma è la tigre si chiama il megaloceros non è camminato viviamo a tigre non è come non è Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info 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 wow 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 Grazie a tutti. 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 Dormono. Grazie a tutti. Dove vuoi entrare? Vuoi entrare da loro? Allora non si può entrare lì? Allora non si può entrare? 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 Non ho mai visto. Non ho mai visto i fenicotteri piccoli. Allora non si può entrare? Allora non si può entrare? Allora non si può entrare? non si può entrare? Allora 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 non si può entrare?